Buonasera ragazzi, le geste sono fette, rien ne va plus, allora la soirée a commencé, le polipe se pronte, tutto il resto anche perché gli amici sono andati via, li abbiamo praticamente salutati, scusandoci però sembrava congruo scegliere tra una famiglia e l'altra, per cui questa sera siamo qui e festeggiamo in modo casalingo, tranquilli. Quindi volevo chiedervi una cortesia, il mio agente, Lello d'Aragona, mi sono aperto un canale youtube che si chiama Gamberetto in salsa rosa, e però purtroppo finora non si è iscritto nessuno, non so perché, probabilmente qualche sabotatore mi ha bloccato la strada perché per invidia. Il mio manager ha detto che se nessuno, che se non c'è nessun iscritto entro stanotte, devo chiudere questo canale youtube, per cui vi chiedo per piacere se potete iscrivermi per la mia salvezza, perché il mio manager mi stressa, quindi vi chiedo, almeno uno di voi si iscriva al mio canale, almeno uno, si chiama Gamberetto in salsa rosa, e quindi di là verso la Cina sono già con l'anno nuovo, noi non abbiamo niente da festeggiare, nel senso che è inutile, a me mi rompe stare svegli fino a mezzanotte per festeggiare, e comunque finché è duro duro, e l'anno che è passato è stato un bell'anno, direi che se raddoppiamo sarà un obiettivo, e speriamo di continuare così, perché qua non si sa cosa succede giorno per giorno, la guerra è qua, è su, è su, e comunque adesso vado a vedere se c'è lo spettacolo, il discorso del Presidente della Repubblica, che a me piace molto, e lo stimo tantissimo.